Mi è arrivata una nuova email Da Kingstoni Auguri per i 20.000 iscritti da una parte di Youtube Italia Yeah sta roba fammi vedere meglio Mi ha inviato un filmato, un piccolo video dove ho cercato di farti fare gli auguri Da persone diverse dal solito Continua così Bomber Da una parte di Youtube Italia, persone diverse dal solito Minchia voglio vedere, sarà una figata assurda I traguardi sono importanti Ci muoviamo al buio come i pochi ampi Voglio subito ringraziare Kingstoni per aver fatto questo video Che adesso vedrò Praticamente mi ha inviato questo video per email Anche lui ha un canale come me Che comunque troverete il link in descrizione Quindi andate a farci un salto Comunque adesso sono molto curioso di vedere questo video Ciao Seppo, sono Kingstoni Probabilmente ti chiederai perché sto realizzando questo video Sì perché questo video in realtà è un video tra virgolette speciale Una cosa del genere Perché voglio dirti alcune cose io E poi voglio farti vedere alcune cose Dai, Bomber, dai Voglio complementarmi con te perché hai raggiunto in pochissimo tempo Penso dal passaggio tra 10.000 e 20.000 Non me la dirai che mi inizia a grattare Tu sei già 22.000 quasi 23.000 Dai E io penso anche che tu questi iscritti realmente Sei uno dei pochi che li merita Per il fatto che porti dei contenuti originali Che sinceramente a me piacciono E ti stimo per questi contenuti E per cose alternative e diverse Da quelle che si vedono sempre su YouTube Italia Dai, Bomber, dai Ma in questo video Oltre a farti gli auguri I miei più grandi auguri Di questi 20.000 iscritti Grazie Quindi gli auguri da parte mia Ti ho fatto fare gli auguri Da alcune persone che ho incontrato a Let's Play Non persone casuali Ma persone che sono conosciute su YouTube Italia E quindi da YouTubers Infatti Ora ti voglio far vedere queste poche clip Iniziando da Sbucci Iniziamo Ciao Sasco, un salutone Un auguro da Sbucci Grande per i 20k Grande Sbucci, grande Come secondo ospite Voglio farti vedere Che è proprio qui davanti a me Fammelo trovare Come secondo ospite C'è Klaus No, io che lo se lo amo Ciao Sasco, tanti auguri per i 20.000 iscritti Ti mando un abbraccio Un abbraccio Questa persona che ti vuole fare gli auguri Per questi 20.000 iscritti È Tutubo YouTube fa cagare In realtà questo personaggio Come sappiamo tutti Ha riscontrato molte polemiche Ma raga È letteralmente simpatico Non so tu se lo ami Ma io come personaggio Lo stimo molto Ecco qua i suoi auguri Uè Sespo Proverazioni per i 120.000 iscritti 20.000 20.000 Vabbè dai Perché secondo me Nel giro di qualche mese Ci arriva a 120.000 No, aspetti raga Qui voglio mettere Una piccola clip Che lui Già a Romics Gli avevo chiesto Una piccola clip Per metterla Nel vlog del Romics E sentite cosa ha detto Uè ragazzi come va Spero tutto bene Un saluto per il canale di Sespo Mi raccomando iscrivetevi Che questo diventa più grande di PewDiePie Ho il sesto sespo Grande Vabbè come PewDiePie è difficile Però stiamo salendo Già sono passati circa 12-13.000 iscritti Da quella clip Quindi dai alla prossima Se beccamo quando avrò tipo 40.000 iscritti Sì magari Come fatta ospite Perché questa è una ragazza La sapi? Una ragazza che non è mai da sola Quindi mi dispiace non è venuta al let's play Non ho potuto fare nulla E quindi ti ho fatto fare gli auguri Di un'altra ragazza Molto conosciuta su YouTube Italia È fidanzata con uno YouTuber in Italia Questo è Anima Quindi chi sarà la ragazza? La sardi Ecco qua i suoi grandissimi auguri Ciao Sespo Auguri per i tuoi 20.000 iscritti Bacini Bacini Dopo dopo viene un ragazzo Che sinceramente è un po' pazzo È pazzissimo E ha delle crisi di identità Vabbè ci avete capito di chi parla È Awed E questi qua sono i suoi auguri Per i tuoi grandissimi 20.000 iscritti Allora prima di farti la clip di Awed Voglio dirvi che io sono stato al let's play E tipo volevo farmi una foto con Awed Solo che non ci sono mai riuscito Perché comunque con la Sabri Con i mates Con Klaus E con tutti gli altri Una foto ce l'ho A me mancava solo Awed E visto che lo seguo da un bordello Volevo farmi una foto Solo che non ho mai trovato il tempo E a questo romix lui non ci sarà Quindi io non potrò farmi una foto con lui Quindi io ti amo Per avermi fatto fare questa clip Veramente SESPO 2000 Ti rendi conto? SESPO 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 Bellissimi auguri SESPO 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 SESPO